PetWave è una piattaforma informatica dedicata e destinata agli amanti degli animali. Ha in sé una serie di funzionalità, tutte gratuite, che consentono all'utente di divertirsi parlando di ciò che ama, per l'appunto i propri animali domestici. Abbiamo più funzionalità all'interno del nostro sito, una sezione social, una sezione forum, una sezione richiede un consiglio al tuo veterinario, una sezione per pianificare le proprie vacanze in compagnia dei propri animali, quindi strutture pet friendly. Nel caso in cui uno smarrisse il proprio animale domestico può mandare una notifica geolocalizzata a tutti coloro che sono effettivamente nelle vicinanze e possono contribuire ad aiutarlo al ritrovamento. Quindi tante funzionalità, uno spazio pulito, genuino, tematico, senza la dispersione che c'è ad oggi nel mondo dei social network, anche la possibilità di effettuare acquisti in un e-commerce con forti sconti. Noi premiamo coloro che all'interno della piattaforma caricano contenuti, contribuiscono alla creazione di una community con degli sconti che possono essere spesi direttamente sul nostro e-commerce. Parliamo un attimo dell'aspetto aziendale di PetWave. PetWave è costituito da tre società, una software house, una agenzia di comunicazione digitale e un'agenzia pubblicitaria tradizionale. Lo potete trovare sul suo sito internet che è petwave.it, dove potete iscrivervi. E a disposizione anche le app iOS e Android, completamente free. Grazie alla gratuità dell'iscrizione e della fruizione di tutte le funzionalità, ricordiamo l'utente non spende nulla per accedere a PetWave, abbiamo avuto un incremento di utenti molto notevole nel 2022. Il 2023 è l'anno in cui vogliamo confermare la nostra presenza in tutta Italia. Questo in quanto già nel 2022 abbiamo coperto la maggior parte delle regioni italiane. Adesso vogliamo diventare forti, così come siamo nella regione Marche, ovvero la regione dove siamo nati, anche nelle altre regioni italiane. Siamo alla ricerca di un partner che possa avere una struttura solida per riuscire a supportare insieme a noi questa crescita. Quest'anno abbiamo fatto i miracoli per riuscire a continuare a erogare un servizio sempre efficiente, sempre costante e sempre aggiornato. Però ci rendiamo conto che per quello che è il tasso di crescita di questo progetto, di questa applicazione, e anche poter contare sul supporto di qualcuno più strutturato può sicuramente dare ottimi frutti in una prospettiva non solo di 2023 ma addirittura triennale. PetWave ha anche un forte sguardo verso il sociale, infatti al proprio interno troverete una sezione dedicata ai canili per incrementare le adozioni, a donazioni no profit e petizioni, come ad esempio quello per l'abbassamento dell'IVA nei confronti di servizi riguardanti il benessere per gli animali. E cogliamo l'occasione per fare a tutti voi e ai vostri animali tanti auguri di buone feste e ci vediamo su PetWave. Bau!